E' stato molto bravo Baldini a sganciarsi dalla difesa, si è fatto vedere centralmente, ha preso questa palla, ha fatto il solito lancio a scavalcare la difesa, stavolta non è riuscito il fuorigioco, è stato molto bravo a controllare di petto, secondo me qui voleva tirare in porta forse, cioè è arrivato a Imundo e l'ha messa dentro facilmente. No, no, forse no, di esterno ha servito il Mundo, è stato molto bravo.